Cari amici benvenuti a Cemento Rosso Sangue, là dove c'era l'erba ora c'è le costruzioni eredità di Ligresti nel municipio 5 tra la via Antegnati a Midani e vi porteremo a scoprire cosa è successo da allora, anni 80, ad arrivare ad oggi. Siamo nel 2015 e in questa sottospecie di città fantasma preda di disperati espacciatori viene ritrovato un 37enne morto sul fondo di un vano ascensore, caduto dall'alto, ancora oggi un omicidio o qualcosa di genere impunito. E eccoci arrivati nel 2016 dove avviene qualche cambiamento positivo, beh poi lo vedrete dopo, però passa di mano la proprietà Ligresti ed arriva in mano ad una nuova società che aveva promesso di costruire 400 loggi di edilizia convenzionata, nel frattempo all'interno le condizioni del palazzo sono sempre in costante peggioramento e da lì in poi non si fermerà più. E comunque da questo periodo ad andare avanti non ci sarà più un momento in cui non si troverà un pernottante, infatti da qui iniziano tutte le occupazioni. Ma arriviamo all'anno 2017 dove le occupazioni si fanno veramente massicce, tutto questo lo si vede anche dalla quantità di rifiuti di tutti i tipi e cominciano ad arrivare veramente gruppi familiari anche con bambini, addirittura si comincia ad allestire all'interno di queste strutture dei ricintini dove c'era qualche pecora, una piccola fattoria a Milano, delle galline e comincia ad essere un luogo frequentato anche oltre ai senza tetto classici, oltre agli spacciatori, anche da gruppi etnici particolari cominciano ad arrivare quindi i primi camper e si stabiliscono lì i primi gruppi di rom. Una situazione che ai tempi si notava subito erano queste lunghissime file di camper generalmente bianchi e il fumo dei barbecue che andava giorno e notte che cercava di coprire a volte il fumo dei rifiuti e di altre mercanzie tipo rame che veniva rubato in giro nei cavi, che veniva bruciato nel posto. Sono da 11 anni qua, sono operaio, adesso non lavoro da nessuna parte, sono rimasto senza, mio figlio va a scuola, ha 7 anni, sono stato appena operato di Kennedy Disc, è troppo difficile per trovare un lavoro, noi che solo per me, siamo tutti diciamo stessa barca adesso, e viviamo da un giorno o un altro, ci sono delle chiese che ne aiutano con qualche cosa da mangiare, vestiti e basta, stiamo qua ormai da 3 anni che sto qua. Siamo stati abusivi a Ninguarda, Campieroni in Guarda, quando il bambino aveva 2 anni ne hanno buttato fuori con il bambino fuori, il 27 febbraio 2009. E se scendessimo qui, noi siamo riusciti ad entrare fino a un certo pezzo una sera finché non siamo stati bloccati, eravamo anche in un gran numero, ci sono delle autorimesse dove soggiornano veicoli di provenienza a dubbio, ma soprattutto questo spazio, essendo il più nascosto, il più occultato rispetto a tutti gli altri, è oggetto di scarico di camion forse rubati con della mercanzia su, e la gente che li guardi è in guardia alla mercanzia che viene scaricata qua. Nulla toglie che il servizio sia svolto anche per conto di altre persone che non sono all'interno di qui, ma che sfruttano la logistica, la vicinanza con le autostrade, eccetera, di questa struttura, soprattutto la totale impunità. Grazie a tutti. Sì, oltre le parti che avevamo già visto nel precedente servizio, adesso è in corso un'occupazione dell'altra parte che fino ad ora è stata lasciata libera, vuota, questo perché comunque stanno aumentando le persone che hanno bisogno di stare qua dentro dopo il famoso sgombero di via Lampedusa che è praticamente 100 metri in faccia a questa costruzione. Sì, chiaramente c'è anche una persona che viene apposta a ripulire le parti comuni per dare un po' di decoro a questa strada e viene pagato per questo, chiaramente questa zona non è agibile per altro se non per qualcuno che viene a viverci o a vivacarci dentro in quanto non c'è negozi, non c'è nulla di nulla, è il vuoto più assoluto, è un quartiere uffici. Siamo nel quartiere Ripamonti con la bretella via Ferrari dove era il quartiere di costruzioni, tra l'altro alcune costruzioni costruite col condono perché erano abusive in quanto erano state costruite dentro al parco sud e sono sempre state delle cattedrali nel deserto, non sono mai state in realtà tutte quante occupate, addirittura famiglia con le galline che stazionava qui da anni, che addirittura era diventata un punto di riferimento per i rumeni della zona che venivano da questo signore a comprarsi l'ovetto fresco e le varie cose tipiche. E il 2017 inizia la presenza ad essere veramente massiccia, ad essere un problema anche di ordine pubblico oltre che per i reati e i furti che avvengono e anche dopo l'omicidio successo oramai due anni prima, diverse situazioni cominciano a diventare pericolose, quindi viene impartito l'ordine dello sgombero. Quindi alla fine di questo anno noi troviamo uno sgombero dove vengono portate via tantissime persone, vengono trovate incredibilmente quintalate di masserizie e di rifiuti e della famosa operazione immobiliare di cui avevamo parlato, per ora tutto ancora fermo, cambia nuovamente la proprietà, arriva a Residenze Visconti, passa a investire ma ancora non avviene nessun lavoro. Sebbene comunque troviamo all'interno dei palazzi il segnale della presenza di qualche lavoratore, ci sono ancora delle gru, ci sono ancora dei ponteggi e il palazzo si sbriciola sempre di più e parte anche in questo anno un'attività sempre più costante e capillare di spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti questo palazzo è posto in una posizione strategica vicino alle autostrade, comunque strade ad alto scorrimento, ma anche la via Ripamonti che è ben fornita da mezzi pubblici, il tram, e quindi si viene fuatta fuori anche una banda di spacciatori che viveva lì all'interno, questa situazione dello spaccio poi noi la ritroveremo ancora negli anni a venire, il tutto facilitato anche dal fatto che comunque questa zona è abbastanza abbandonata, non ci sono negozi, sono tutti uffici. L'unica attività che dovrebbe essere attiva è quella proprio sull'angolo tra la via Antegnati a Midani, il NUIR dei Vigili Urbani della Polizia Locale, ma che comunque in questi anni non ha inciso nulla sulla questione sicurezza di questo palazzo. Intanto che noi raccontiamo tutta questa cosa, vi possiamo dire anche che sicuramente questi palazzi in quel momento erano una valvola di sfogo anche per tutti gli sgomberi che erano avvenute di vari campi abusivi e anche, come avrete visto nelle interviste, di alcune sgomberi anche di palazzi dell'edilizia popolare. Questo per dire che a Milano i palazzi, anche se sono abbandonati, in realtà sono palazzi vivi, in quanto le persone faticano veramente tanto a riuscire a trovare alloggio e ogni buco che può proteggerli dal freddo e dal gelo, parliamo sia in questo caso dei regolari che degli irregolari, diventa casa. Ed ecco che questi palazzi sono stati le case per molti durante tantissimi anni e fino ad oggi, del domani non c'è certezza. Grazie a tutti!